Narbuno, ben dell'antichità, è uno plazzo commerciale prestigioso, un emporium mage alla confluenzio d'Aude e della Mediterraneo, ma sul flume cambia progressivamente le maire. Al segle XV, l'impensabile arrivo. Aude ha trovato uno nuovo bio capo alla mar. En 1500, il consul baso su un canale in amont della città e redirigì sull'Arubino e Nabal. A mesi 32 km, il canale dell'Arubino deve permettere a Narbuno di demurare al cor della rete flubiale. Ailas, il declino continua. A me lo canale del Mietjun, la Bilo spero cuneisse una prosperità nuvelo. Mas aquí che lo trazà del canale, privilegio, bezies e seto, Narbuno è messo a parte dei scambi. Mentre che i narbunesi hanno negociato la construzione di uno giuntiù entre i due canali, l'hostilità dei bezierenti e dei settori interrumpa l'obro. Calderà un secolo di discussioni abande bere l'usin d'arriès chilometres cabaz. Situat sull'abbio che meno alla nuvelo, Narbuno tirò infiprofieit del canale del Mietjun. Frette e obros di construcciun abalo, comerci e inclusiessi se multiplicun. Mas un burro la disnubel s'annuncio. La linea di camì di ferro e burdeo seto ben rivoluzionà lus transports. Luca Naldeura Truba di Funcius Nubelos